Oggi, venerdì 30 giugno 2023, si svolgerà a Sardegna il secondo test regionale IT Alert. Il nuovo sistema nazionale di allerta pubblica che utilizza la tecnologia Cell Broadcast che l'Italia sta adottando per l'informazione diretta alla popolazione in caso gravi emergenze imminenti. Ho corso. Quindi, come previsto, dopo il primo test che ha coinvolto regione Toscana il 28 giugno 2023. Oggi, intorno alle 1200, la sperimentazione operativa toccherà tutta Sardegna. Una delle regioni pilota del test in quel momento. Tutte le persone che si troveranno sull'Isola potranno ricevere sul proprio cellulare. Se acceso e con collegamento telefonico. Il messaggio di prova del nuovo sistema. Ecco il testo integrale del messaggio. Ripetuto anche in inglese. Che riceveranno i Sardegna il IT Alert. Questo è un messaggio di prova del sistema di allerta pubblica. Italiano. Per informazioni vai sul sito alert e compila il questionario. Il messaggio viene inviato durante queste prove e accompagnato da un forte suono di allarme. Seguito da una sintesi vocale che ripete quanto scritto. Sia in italiano in inglese. Inoltre. Il testo del messaggio sperimentale fa riferimento alla compilazione di un questionario sul sito. Ufficiale di IT Alert. Per fornire feedback e segnalare eventuali malfunzionamenti. A tal proposito. A seguito primo test svoltosi in Toscana. La protezione civile ha comunicato di aver ricevuto numerosi riscontri attraverso la compilazione. Questionario grazie al quale sono allo studio alcuni elementi emersi nel corso test. Con particolare riferimento alla mancata ricezione messaggio da parte di alcuni dispositivi e. Dall'altro. Al ripetuto arrivo messaggio sullo stesso cellulare. Secondo quanto comunicato. Con gli operatori telefonia mobile hanno iniziato ad approfondire rivedere. Su tutto. Processo di invio del messaggio. Il comportamento delle celle telefoniche per verificare la copertura ricevuta e comportamento. dispositivi quali telefoni. Tablet e smartwatch. La notifica del messaggio di allerta IT sui dispositivi dipende dal modello di cellulare o. Smartphone. Dal sistema operativo e dalla versione installata. In alcuni casi. Infatti. L'utilizzo di una vecchia versione del sistema operativo può portare a problemi nella ricezione dei. Messaggi. In questi casi. La protezione civile invita a compilare l'apposito questionario. Segnalando eventuali problemi riscontrati. Per ricevere messaggi di allerta IT. Anche di prova. Non è necessario compiere alcuna azione o scaricare alcuna app. Anche se la voce IT alert dovesse essere disattivata. I messaggi sia durante i test che quando sistema è operativo arriveranno comunque sui dispositivi. In quanto verrà utilizzato il livello massimo di azione per invio. Se sono spenti o fuori portata. I dispositivi non ricevono messaggi di allerta IT. Mentre se la suoneria è impostata sulla modalità silenziosa potrebbero non suonare. Il sistema informatico allerta. Attualmente in fase di sperimentazione. Quando sarà operativo. Consentir.